Buongiorno, da Italia Azzurro 4, Victor, Quebec, Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi prega, prega. Monte Molinatico, Italia Eco Romeo 301, quota 1.540 e qualche sputo, percorso di stamattina impegnativo perché sono partito col buio e le batterie degli apparati li ho caricati, mi sono dimenticato di caricare la batteria della frontale, quindi ho proceduto con prudenza, passi corti e ben attenti. Un saluto a Italia Chilo 4, Charlie Oscar Eco, che sono convinto che tutte le volte che vengono su mi dà del pietro, e 73 adesso impianto stazione. Grazie a tutti. Allora, 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 Frequency News, Frequency News, non mi sembra, 05, commenti, QRP, vai, send. Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, Siku Sota. Florida 5, Giuliette, Kilo, Kilo. Florida 5, Giuliette, Kilo, Kilo, 5, 9, Real 5, 9, back to you. Roger, Italia Chilo 2, Lima, Eco, Yenchi, è corretto? Corretto, ciao Alessandro, sono Fabio, 5, 9, Milano, QSL. Italia Uniforme 0, Giuliette, Kilo, November. Italia Uniforme 0, completo al call, grazie. Italia Uniforme 0, Giuliette, Kilo, November. Perfetto, Italia Uniforme 0, Giuliette, Kilo, November. ECO Alpha 2, Charlie Kilowatt Extra, 5,9. Tiet, il Bonitio, Alessandro, ECO Alpha 2, Charlie Kilowatt Extra, nostro Report 5x2, 5x2, ferito anno nuovo, saluto. Saluto, buon anno, ciao, 73. Guerre Zetta? ontario milano 1 ancona xilofono 59 qsl ok italia chilo 3 sierra victor tanco 59 qsl ciao 73 guarda sto provando a uscire con soli 4 watt per risparmiare un po la batteria interna del dell'apparato sembra che tenga secondo me devono ancora sistemare qualcosa nel software buon anno ciao italia zelanda 0 giuliette quebec zulu corretto italia chilo 2 november bravo whisky 59 reali qsl ciao 73 e buon anno ciao roger florida 6 florida tango bravo 59 real 59 for you my friend happy new year roger oscar eco 6 hotel kilo delta 55 55 your report back to you delta giuliette 2 complete your call delta giuliette 2 milano xilofono delta giuliette 2 milano xilofono qsl delta giuliette 2 milano xilofono 59 plus 10 59 plus 10 for you my friend back to you qsl buongiorno alessandro 59 per te 59 mille grazie 73 happy new year ciao ciao 73 buon anno avanti il collega eco alfa oscar november 4 charlie bravo oscar november 4 charlie bravo 59 più 20 59 più 20 59 più 20 per te qsl ciao buon anno ciao buon 2022 ciao ciao oscar november 3 uniform alfa roger oscar november 3 uniform alfa 59 qsl roger roger qsla qsla buona giornata mio amico 55 55 grazie mille buon anno ciao 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 73 buon anno ciao 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 sicu sota sicu sota sicu sota italy zulu 4 victor kebex sierra portable qrp sicu sota 2 ico zero alfa gold bravo is correct good morning alecandro 2 ico zero alfa gold bravo you are 5-5 5-5 pietro qsl qsl my friend your report is a 5-9 5-9 real 5-9 for you my friend happy new year bye bye sicu sota allora i disturbi arrivano lo stesso anche se l'ft8 17 come si ascoltavano su 6100 quindi direi che va bene roger in 3 india juliet lima scusami bravo florida over roger eco alfa 3 bravo florida 5-9 5-9 qsl roger foxtrot 5 italy eco tango foxtrot 5 italy eco tango 5-9 5-9 plus plus your report happy new year bye bye my friend roger italy zulu 8 delta florida oscar 5-9 ok e co alfa 1 mexico x ray 5-9 qsl roger roger alessandro 5-9 ok italy eco tango 8 victor radio oscar ok italy eco tango 8 victor radio oscar ok italy eco tango 8 victor radio oscar e corretto foxtrot 4 whisky bravo november 5-9 plus plus real 5-9 plus plus ok very fine many thanks good morning ego 5 by 9 59 plus also roger good night eco alfa 2 charlie eco eco alfa 2 charlie eco quesal 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 eco alcolui charlie eco hotel bravo 9 charlie eco alfa over yeah ciao good morning thank you very much report for you 5 and 6 56 73 happy new year 73 to you my friend your report is a 5-9 happy new year bye bye thank you oscar chilo 2 papa delta tango oh benvenuto oscar chilo 2 papa delta tango 5-9 real 5-9 qsl alessandro good morning your report 5-5 55 73 good luck bye bye 73 my friend bye bye italia chilo 1 golf papa golf ciao 73 buon anno perfetto buon anno k1 golf papa golf 657 buon anno ti chiedo una cortesia mi stavi ascoltando anche prima qualche minuto fa interrogativo no sono appena arrivato appena arrivato adesso ti posso far perdere due minuti beh sì dimmi allora io adesso sto modulando con l'oxiegu cambio apparato passo all'ft8 e 17 qsl va bene se rimango qui roger ti ringrazio l'italia azzurro 4 victor che bexerra per italia chilo 1 golf papa golf sì perfetto guarda arrivi la motivazione è buona in entrambi i casi e con questo però arrivi un pelino più forte eh perché con l'oxiegu sto uscendo con 4 watt 3 watt e mezzo 4 mentre con lo jesu esco con 5 watt se faccio anche la sostituzione della batteria è una tragedia ci metto un sacco di tempo ok ti ringrazio l'italia chilo 1 golf papa golf perfetto sì ma non c'è moltissima differenza comunque cioè da un 7 passi a un 8 più o meno così è proprio un pelino più forte ma non molto di più la motivazione è ottima in entrambi i casi grazie e buon anno buon anno e grazie a te per la pazienza grazie ancora italia chilo 0 bravo delta oscar corretto corretto il chapa zero bg manca in suel e più steve Sto fermo la propria collega, cambiarsi perfettamente bene e la differenza è vero o minima. Roger, ti ringrazio, ti ringrazio, era un po' che non ci si sentiva per radio, ne approfitto, gli auguri di Natale un po' in ritardo, ma gli auguri di buon anno sono proprio giusti, a te il cambio Italia Kilo Zero. Italia Kilo 6 Lima Bravo Tango, neanche una sigaretta mi fate accendere, a te il cambio. Sì, mi pare Alessandro, giusto, Italia Zulu 4, Victor Queen Sugar. Sierra 5 2, Charlie Uniform, Sierra 5 2, Charlie Uniform, Roger. Roger, Sierra 5 2, Charlie Uniform, 5, 9, plus, plus, 5, 9, plus, plus for you, my friend. 73, happy new year, bye bye. Ciao, Italia Kilo 2, Z, JT. Allora, Italia Kilo 2, Z, completami il call, scusa. Z, JT, Zagabria, Giappanto, Occhio. Sì, Università 6, Oscar, Lima, Mike. Del Patano. Manuel, stand by, one second, stand by, one second, avanti il collega italiano. Sì, buongiorno, grazie, Italia Università 6, Oscar, Lima, Mike, Renato, Gradara. Roger, Renato, Italia Università 6, Oscar, Lima, Mike, 5, 9 reali, eh, 5, 9 reali, grazie e buon anno. Ciao, grazie anche a te, 5, 7 reali, ciao, ciao. Roger, eco, Alfa 2, Delta Tango, ciao, Manuel, 5, 9, QSL. Ciao, Alessandro, contento di ascoltarti, eco, Alfa 2, Delta Tango, 5, 7 per te, buona torta, buon anno, un abbraccio. Ciao, 73, buon anno a te, famiglia, ciao ancora. Buongiorno, Alessandro, Italia Chilo 1, Alfa, Papa, Whisky. Buongiorno, Italia Chilo 1, Alfa, Papa, Whisky, 5, 9 più più, reali, a te il cambio. Sì, perfetto, grazie, Alessandro. K2, Giulia, Tango, Sierra. Italia Chilo 2, Giulia, Tango, Sierra, corretto? Corretto, corretto, il K2, Giulia, Tango, Sierra, 5, 9. Oscar, November 7, Lima, Oscar, Ocean, 97, Lima, Ocean. Roger, Oscar, November 7, Lima, Oscar, 5, 9. Thank you, Happy New Year, bye bye. Buongiorno, Alessandro, thank you for the 5, 9. 5, 5, 5, 73, and good luck, bye bye. Bye bye, thank you, bye bye. Italia Chilo 3, Delta Radio Oscar. Italia Chilo 3, Delta Radio Oscar, 5, 9 abbondantissimo per te. QSL. Sì, benissimo, buongiorno, 5, 9, anche per te, ciao, 63, buon anno. Il signore, Charlie Alfa Radio, Alessandro. Roger, Italia Tango 9, Charlie Alfa Radio, corretto? Ciao, buongiorno, ben sentito, 5, 7, 5, 8 per te, un abbraccio, buona giornata, buon anno nuovo, complimenti dell'impiata. Ciao, grazie, buon anno, e grazie a voi che venite dietro agli attivatori. Ciao, 73. Italia Zulu 0, Alfa Radio Rima, Alfa Radio Rima. Roger, Italia Zulu 0, Alfa Radio Rima, 5, 9. Roger, Alfa Radio Rima, 5, 9, 5, 9. November, Kilo Sierra, over. Delta Lima 1, Delta Lima 1, November Kilo Sierra. Roger, Delta Lima 1, November Kilo Sierra, 5, 9, plus, plus, back to you. Italia, Italia Whisky 1, Alfa Radio KW. Roger, Italia Whisky 1, Alfa Radio KW. Italia Norvegia 3, India, Giuliette, Charlie, Italia Norvegia 3, Italia Japan Canada, Roger. Roger, Italia Norvegia 3, Italia Japan Canada, 5, 9, QSL. Delta Golf Hotel, Alfa Radio Rima, Delta Golf Hotel. Allora, Italia Tango 9, Delta Golf Hotel, corretto? Corretto, sicuro, Alfa Radio Rima, ciao, buongiorno. Ciao, 73, QRZ. Zeta 5, Giuliette Lima, Fox. Oh, Italia Zulu 5, Giuliette Lima, Foxtrot, mi sa di conoscerlo sto nominativo, a te il cambio. Ciao, Alessandro, arrivi in maniera formidabile adesso, bene, 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 grazie ai tanti collegamenti, ciao, grazie. Ciao, grazie, buon anno e buon Natale anche se è passato, grazie ancora, ciao. Papa, Alfa 7, complete your call, thank you. Papa, America, sir, un radio, Alfa. Roger, Papa, Alfa 7, radio, Alfa, 5, 9, QSL. Zeta 5, Giuliette Lima, Papa, Chilo. Allora, Italia Zulu 5, Charlie Papa, Chilo. Anche questo mi sembra di conoscerlo, 5, 9, buon anno. Ciao, grazie. Golf, Golf, Chilo, Giuliette. Allora, Italia Uniform 3, Golf, Chilo, Whisky, è corretto? Golf, Chilo, Giuliette. Roger, scusami, Italia Università 3, Golf, Chilo, Giuliette. 5, 9, QSL. QSL, benissimo, buongiorno, ti ringrazio, 5, 9, anche per te con treviso. Ciao, grazie, buon anno. Oscar, November 7, Guatemala, Romeo. Oscar, November 7, Guatemala, Romeo. Buongiorno, Alessandro, 5, 5, 5, 5, 5, Alessandro, QSL. QSL, Oscar, November 7, Golf Radio. Oscar, November 7, Golf Radio. 5, 9, QSL. Eco, Alpha 3, Eco, Victor Lima. Eco, Alpha 3, Eco, Victor Lima. QSL. Ma, Eco, Alfa 3, Eco, Victor Lima. Eco, Victor Lima. Roger, Eco, Alpha 3, Eco, Victor Lima. 5, 9, QSL. Roger, Roger, buona giornata. Eco, Alpha 3, Eco, Victor Lima. 5, 5, 5, good job, whoever. Thank you to you, my friend. Happy New Year, bye, bye. Sì, buongiorno, buongior. Italia Kilo 1, Delta Florida, Hotel. K1, Delta Florida, Hotel Roberto. 5, 5, grazie. Buon fine d'anno, Alessandro, buon inizio. Italia Zealanda 1, uniform Juliet Mike. Roger, Italia Zealanda 1, uniform, giuliette mike e 59 reali e buon anno ciao querset novembre 3 over roger oscar november 3 yankee bravo five nine happy new year to you my friend bye bye ecco alfa 8 complete your call quersel my friend ecco alfa 8 alfa papa five seven five eight five seven five eight thank you to you my friend happy new year roger spartaco arrivi a bomba il nome è proprio garanzia di potenza italia uniform 5 lima bravo che beck 59 più 10 il tuo rapporto 59 più 10 e allegro anche gli auguri di buon anno a te il grazie ancora e auguri di buon anno a tutti e resto in ascolto qualche minuto qui italia zulu 4 victor che beck sierra portate le qrp attivazione sota italia eco romeo 3 0 1 73 buon anno allora la prova sul campo ci voleva cosa è emerso l'oxiegu l'ex 6100 alimentato con questo modestissimo pacco batterie il voltaggio e 11,2 4 watt e 5 watt e si riescono a fare le 8 17 ovviamente fa i suoi 5 watt ma non era tanto la potenza che mi interessava ma la ricezione e per quello che ho scelto il monte molinatico no non sono impazzito è non sono impazzito aspetta che fermo il video allora la parte finale del video la faccio qua perché dopo controllo della forestale metterò una breve sequenza così si capisce qual era il problema la telecamera era andata completamente fuori fuoco dalla legge dunque dicevano comunque due punti principali quali sono l'alimentazione l'apparato radio i 5 watt e li eroga è vero bisogna utilizzare una batteria esterna io ho collegato una piccola batteria da lipo da una tensione di 11 volt quando è carica e 5 watt uscivano 4 e mezzo 5 insomma eravamo lì queste o si fanno soprattutto quando sei in attivazione sorta che ti cercano tutti e ti tirano fuori l'eft8 e 17 è la stessa cosa il pacco batteria dell'eft8 e 17 mica penserete di farci un attivazione sorta onestamente ma il punto che mi interessava di più era andare in un luogo dove il qrm il disturbo elettromagnetico è altissimo infatti tarando l'antenna sia con mpj che con nano vna nella zona della vetta del molinatico danno valori assurdi effettivamente anche l'X6100 nelle operazioni autotune io ci ho provato sbillava la colpa non è dell'apparato la colpa è del luogo particolare io ho fatto un confronto grazie della disponibilità dei colleghi a cui chiedevo aspetta qualche minuto un minuto che sostituisco l'apparato che mi fai un confronto la modulazione tutti mi hanno detto è uguale la potenza un batti meno dicevano è leggermente più basso può essere sicuramente quindi secondo me l'apparato funziona va bene è un bel giocattolino ha tantissime funzioni che io non userò mai ma ci sono appassionati che sui modi digitali li hanno hanno modo di sfogarsi e quindi niente 73 da italia 24 vittor che bec sierra auguri buon anno e tanta attività sota oppure barato p ma sicuramente qrp grazie a tutti